Ciao ragazzi bentornati o benvenuti in questo nuovo video, sono sempre io Luca Crocco e come avrete sicuramente letto dal titolo e visto dalla copertina di questo video oggi parliamo di un tema molto interessante, parliamo di Android 12, Material You, sapete di cosa sto parlando? Spero veramente di sì io non devo aggiungere nient'altro, sappiate già che tutti i link importanti li trovate qua sotto nella descrizione di questo video oggi vedremo appunto come replicare l'esperienza Android 12 e Material You su tutti i vostri smartphone Android cominciamo subito bene amici eccoci qua con il mio fedele compagno del Oneplus 9, a scanso di equivoci vi mostro che non monta ancora Android 12 bensì Android 11, ecco qua se volete un video aggiornamento su questo smartphone con Android 12 lasciate un commento ora vi mostro come replicare l'esperienza utente di Android 12 semplicemente installando un launcher di terze parti il launcher ve lo premetto è ancora in fase di alfa quindi non è super stabile ma comunque abbastanza utilizzabile il launcher in questione è questo qua, si chiama Launch Air e in più dovrete scaricare due icon pack o comunque anche uno, in base a quello che preferite, io comunque vi lascio linkati entrambi qua sotto in descrizione il primo è Pix Material Dark e Pix Material White questi dovrebbero esserci sul Play Store, facciamo un check insieme vediamo un attimino, Material Icon Pack sì, Material You and Widget c'è e poi eccolo qua, questo è quello in Dark Mode quindi li trovate sul Play Store, se volete vi lascio linkati comunque qua sotto in descrizione così fate prima paradossalmente poi a scaricarli cosa facciamo oggi? Andiamo a cambiare questo launcher così andiamo a replicare un pochettino l'esperienza utente di Android 12 quindi andiamo nelle impostazioni, cerchiamo launcher per quanto riguarda OnePlus troverete la voce programma di avvio anziché il OnePlus Launcher scegliete Launch Air ecco qua, subito spoiler delle icone veramente pazzesche andiamo a tenere premuto sulla home, impostazioni schermata home, generale pacchetto icone, io preferisco questo pacchetto qui, quelle white guardate che belle, veramente pazzesche dopodiché andiamo nella galleria e andiamo a settarci un wallpaper in stile Material You quindi imposta come sfondi, imposta e imposta per entrambi ed ecco qua, la nostra personalizzazione è già praticamente completa il launcher come vi ho detto è in fase di alpha ma funziona tutto sommato abbastanza bene ci sono anche i bellissimi effetti rimbalzo spero possiate vederli, io impazzisco per questi dettagli anche quando si richiama il cassetto come vedete si arriva alla fine c'è sempre l'effetto rimbalzo molto chiarino qua in alto la possibilità di cercare le applicazioni in maniera veramente molto molto rapida guardate che carina la bolla attorno all'applicazione selezionata tutto curato nei minimi dettagli tengo premuto sull'applicazione e c'è l'animazione in stile Android 12 Material You davvero molto molto bella e anche se vado a cancellare, a fare la prova di cancellare un'applicazione come vedete anche qua tutto in Material You veramente molto molto ben fatto non ci sono cali di frame strani nonostante sia in alpha questa applicazione devo dire che funziona veramente molto molto bene da dove ho preso questo sfondo? beh vi basta cercare semplicemente su Google Pixel 6 wallpaper magari una roba del genere e sicuramente poi lo trovate pixel 6 ecco qua wallpaper andate su immagini e beh trovate sicuramente sfondi del genere ecco anche questo è molto molto carino andando nelle impostazioni del launcher vi faccio vedere che è possibile anche sfruttare il Material You infatti andiamo qua impostazioni esatto torniamo indietro andiamo in schermata home se non ricordo male a parte che è possibile personalizzare praticamente tutto però torniamo indietro non ricordo bene dove era allora cartelle no forse su generale tema chiaro, scuro, sceglia, sistema ovviamente colore primario eccolo qua wallpaper, sistema oppure i vari preset come vedete qua prende il colore del wallpaper qua cambia in base al sistema se vado su preset e scelgo per dire fucsia come vedete cambia la sfumatura di tutto il launcher veramente molto molto carino io ovviamente adesso vado a tenere dynamic wallpaper e lascio il tutto così veramente un launcher con un potenziale molto interessante si può cambiare anche il font se volete ce ne sono veramente tantissimi tra cui scegliere io in questo caso ho lasciato quello di default però per il resto veramente ragazzi è ancora in fase di alfa però dai funziona veramente molto molto bene dalle impostazioni informazioni si può andare a supportare chi ha sviluppato l'applicazione magari fatelo visto che l'applicazione funziona veramente molto molto bene e questa è la nostra personalizzazione in stile android 12 in material you ah come vedete funzionano anche i badge di notifica le icone ovviamente possono essere utilizzate anche con altri launcher quindi se non volete utilizzare questo launcher ma volete utilizzare che so nova launcher beh potete farlo tranquillamente in quanto le icone funzionano veramente senza problemi fatemi sapere se conoscevate già questa personalizzazione se vi do un altro piccolo spoiler tenete premuto qua andate su widget e poi l'applicazione dell'icon pack dovrebbe avere anche i widget eccoli qua 6 widget e potete andare a scegliere i widget di android 12 quindi tenete premuto vi selezionate il vostro widget ok crea ed eccolo qua l'orologio di android 12 molto molto carino comunque dai io ve l'ho detto un'applicazione davvero ben fatta sia il launcher e sia gli icon pack mi stanno piacendo sto utilizzando questo setup sul mio oneplus 9 e semplicemente ho voluto fare questo video per farvelo conoscere e per consigliarvelo pure a voi bene ragazzi spero che questa puntata sulla personalizzazione android sia stata di vostro gradimento perché non ne facevo da un bel po' quindi dimostratemi tutto il vostro calore con un bel mi piace e un commento qua sotto vi ricordo che tutti i link sono qua sotto nella descrizione di questo video per poter scaricare la pick up del launcher ve lo ricordo è ancora in fase di alpha ci vorrà un po' di tempo prima che sarà del tutto stabile però comunque è già utilizzabile quindi ve lo straconsiglio potete sicuramente installarlo e utilizzarlo e poi trovate in descrizione anche i link per il download degli apk dei file per quanto riguarda gli icon pack anche questi veramente ben ben fatti detto ciò io sono Luca Crocco e per te che è tutto ci vediamo in un prossimo video ciao 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 ciao